Arriva il fischio finale del direttore di gara anche al Palasichelli Archivi, per il match di pallacanestro tra Betaland Capodorlando, e A7 Milano. Il risultato premia la corazzata milanese, 62-68, anche se i padroni di casa non hanno affatto demeritato. La Betaland ha disputato una buonissima gara, ma nulla ha potuto sulle giocate delle stelle avversarie. Eppure l'esiguo distacco ai punti racconta una partita diversa, certamente molto equilibrata, in cui la differenza l'hanno fatta ai valori tecnici. 14 i punti di Edwards, 12 per Azzur, 11 a testa per Delas e Kulboca. Giacoppo D'Antuono, il prossimo è l'ultimo quarto. Quando siamo a pochi minuti dalla fine del terzo quarto di basket tra Capodorlando Olimpia Milano, il risultato è fermo sul 34-40. Le due squadre stanno regalando una bella partita agli appassionati della pallacanestro, affrontandosi a viso aperto. Ritmi particolarmente alti e contrasti intensi. Entrambe le formazioni, però, sono andate pochissimo in lunetta. Vediamo se le cose cambieranno nella prossima frazione. La partita è aperta più che mai, il punteggio non può far star tranquilli i giocatori dell'Olimpia. Capodorlando insiste per recuperare lo svantaggio. Giacoppo D'Antuono Giacoppo D'Antuono